Due strutture immobiliari potranno riprendere corpo perché funzionali allo sviluppo del territorio di Milazzo. La prima è localizzata all'interno della stazione ferroviaria, la seconda nei pressi del Palazzo Comunale. Per il primo mobile, Fer Servizi Spa, che si occupa dell'attività di direzione e coordinamento delle ferrovie dello Stato italiano, ha bandito due manifestazioni di interesse per un locale commerciale di 200 metri quadrati, per attività commerciale, rivolta principalmente alla clientela ferroviaria, e per un altro locale di 290 metri quadrati da adibire all'attività di bar e ristorazione. Termine di scadenza delle manifestazioni le ore 12 del 15 novembre prossimo. Inutile dire come una stazione ferroviaria come quella di Milazzo, con un sito ferroviario piuttosto ampio, porta naturale verso le isole Olie e destinazione e partenza di tanti turisti, abbia necessità di strutture come quelle destinate al bar e alla ristorazione. Per il resto è notorio il progetto del nuovo centro servizi, collegato al Palazzo Comunale, che sorgerà al posto dell'attuale edificio che accoglie il commissariato di polizia e che ha ospitato, sino alla fine degli anni Ottanta, l'ex mercato coperto. Grazie a fondi per 2 milioni e 200 mila euro si procederà alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, creando un collegamento diretto tramite una passerella aerea con il Palazzo Municipale, da destinare al centro servizi a supporto delle attività turistiche. Il nuovo centro servizi sarà uno strategico nodo di collegamento tra la via Francesco Crispi e la via Pescheria per rivitalizzare un'arteria storica, un tempo luogo di attività legate ai temi del mare, oggi invece riconvertite in zona turistico-ricettiva con B&B, locali notturni, pub e ristoranti.